In una conferenza internazionale sull'energia non poteva mancare un panel sulla cybersicurezza delle infrastrutture critiche, le infrastrutture che erogano servizi essenziali al nostro Paese, in particolare l'energia elettrica e il gas. Parleremo di questo e parleremo anche di come le aziende riescono a stare al passo alla normativa in cybersicurezza in continuo aggiornamento. Ebbene ne parliamo con alcuni dei principali esperti, protagonisti della sicurezza informatica in Italia. Do subito il benvenuto ad Andrea Chittaro, signor Vice President Global Security e Cyber Defense di SNAM e membro del Comitato Tecnico Scientifico dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Benvenuto! E adesso vi rivelo un segreto. Il Comitato Tecnico Scientifico è stato proposto al Parlamento in una commissione, ma non è che questa proposta è stata depositata in un cassetto, è stata illustrata. Bene, ai membri di una commissione sapete da chi? Da Stefano Mele, avvocato e partner Gianni Origoni, responsabile dipartimento Cyber Security. Benvenuto! E benvenuto anche ad Andrea Salpietro, Chief Security Officer di Leonardo. E l'ultimo illustre speaker è Angelo Tofalo, parlamentare della quarta commissione difesa, Camera dei Deputati. Andrea Chittaro, partiamo da lei. SNAM è una delle principali società di infrastrutture energetiche al mondo e il primo operatore europeo per quanto riguarda il trasporto e lo stoccaggio del gas naturale. Recentemente il Ministro Cingolani ha detto che dobbiamo ringraziare SNAM ed ENI perché stanno facendo dei salti mortali per lo stoccaggio. Ora siamo al 60%, l'obiettivo è il 90% prima dell'inverno. Ebbene, come fate a garantire la cybersicurezza all'infrastruttura di SNAM? Manca un verbo in questa domanda, provare a garantire la cybersicurezza nell'infrastruttura di SNAM perché oggi garantire la sicurezza è un'impresa ardua per chiunque. In realtà quello che cerchiamo di fare è muoverci su quelli che io considero i tre driver fondamentali in una strategia di cybersicurezza. Potremmo anche qui usare, come spesso accade, un acronimo e chiamarlo TOP o POT, dipende cosa vogliamo metterci prima, comunque sostanzialmente le tecnologie, l'organizzazione e le persone. Oppure forse le persone, l'organizzazione e le tecnologie. Questo per dire cosa? Che oggi, anche grazie alla spinta che poi ne è derivata dalle normative, dalla compliance, dal perimetro di sicurezza nazionale, le grandi organizzazioni aziendali, che probabilmente erano anche già pronte da un certo punto di vista, però hanno spinto ancora di più, soprattutto sui primi due fattori. Ecco, le persone per quanto riguarda le competenze. Ci siamo anche riappropriati di alcune competenze che in passato avevamo outsursato, ad esempio, ma le sfide che abbiamo davanti, alcune le hai citate tu, nel mondo energy, ci impongono di poter disporre in house di determinate competenze. Quindi un grande investimento sulle persone. Dopodiché l'organizzazione, ecco, nella norma, nel decreto del perimetro c'è un cenno esplicito dell'organizzazione, molti magari non lo sanno o l'hanno letto distrattamente, ma oggi le aziende, ricomprese nel perimetro, devono dare evidenza interna ed esterna di un'organizzazione strutturata. E allora, fare questo significa, ecco, avere le competenze, significa dare dignità a questa organizzazione. Perché uno dei problemi che io ho notato e che da sempre in qualche modo pongo all'attenzione dei decisori aziendali è che un'organizzazione di security, di cyber security, deve avere una sua dignità autonoma rispetto agli altri dipartimenti aziendali. Deve essere possibilmente portata a riporto del vertice, oggi in Snam questo accade, in qualche altra organizzazione, in Leonardo accade, magari in tante altre ancora non si capisce il valore di questa scelta organizzativa. Allora io credo che questo sia uno dei punti qualificanti sui quali muovere e sui quali riflettere per chi ancora ha fatto o mantiene delle scelte diverse. Beh, le tecnologie. Le tecnologie ovviamente sono fondamentali, ma nella mia logica e nella mia ottica dovrebbero diventare una sorta di commodity rispetto a tutto quello che abbiamo detto prima. In attesa dell'auspicata, ma certamente ci vorrà ancora del tempo, no? Sovranità tecnologica italiana, tanto auspicata dal professor Baldoni, dobbiamo fare con ciò che abbiamo. Ecco, mettiamola così. Ora, sulle tecnologie, chiaramente adesso e di qualche giorno fa, no? L'entrata in funzione del CVCN bisognerà ragionare su cosa vuol dire mettere, creare questa sicurezza, creare questa sicurezza tecnologica. E sarà una sfida certamente non indifferente, non sarà una sfida priva di impatti per le aziende. Adesso, diciamo che lo scopriremo solo vivendo, nei prossimi mesi, però sono passaggi, direi, inevitabili, che ci porteranno auspicabilmente, in un certo periodo, in un certo tempo, a creare anche un catalogo di prodotti sicuri, che poi sarebbe la cosa auspicabile e la cosa migliore. Concludo dicendo su questo tema, noi, Baldoni spesso dice, no? Dobbiamo colmare un gap con l'agenzia che adesso si è avviata, ha del tempo davanti. Ma tutti quanti dobbiamo colmare un gap ultraventennale con una digitalizzazione o un'innovazione che non avevano proprio la security nel loro DNA, nel design. Quindi oggi ci sono infrastrutture e ci sono ambienti che risentono ancora di scelte fatte in passato, legittime, per carità, assolutamente legittime, ma che oggi ci dimostrano un po' il nervo scoperto e ci portano un po' a rincorrere. Allora, la buona cultura fa sì che il design della security diventi una costante, una cosa regolare e una cosa accettata e praticata dai più. Tutto il lavoro di cui ho detto adesso su questi tre driver porterà, speriamo, in un tempo adeguato, a creare quell'ambiente un po' più sicuro che tutti in qualche modo auspichiamo. Il CVCN, lo ricordiamo, è il centro di valutazione e certificazione nazionale che dal 1 luglio opera e operativo presso l'Agenzia Cyber Nazionale e che effettua dei test su tutte le tecnologie per le società e soggetti inseriti nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Avvocato Mele, tante società in questo perimetro, le infrastrutture energetiche devono essere cyber resilienti, operative, ma anche conformi alla normativa cyber italiana ed europea. Come fare? E per voi cyber avvocati si lavora sempre di più, non è affatto facile? No, allora sicuramente, parto dalla sua provocazione simpatica, si lavora moltissimo. Sempre di più, appunto, anche studi legali strutturati, come Gianni Origoni, hanno sentito l'esigenza di creare un dipartimento specifico sulla cyber security, qualcosa che accompagnasse le aziende, principalmente, ma anche la pubblica amministrazione, nel percorso di adeguamento normativo, oltre alla classica data protection. In realtà, perché ritengo che abbiamo un po' sbagliato l'approccio da un punto di vista normativo, almeno, se avessimo cominciato anni fa a normare la protezione delle informazioni, di conseguenza avremmo avuto anche la protezione dei dati personali, che sono una piccola porzione delle informazioni. Però è chiaro, a pensarci, oggi è facile, nel 1996 magari era un'altra storia. Però, ecco, siamo adesso un po' in affaticamento per cercare di risalire la corrente e, obiettivamente, lo sforzo che le aziende stanno facendo in questo momento è uno sforzo enorme. Ma è uno sforzo enorme che le aziende hanno compreso molto bene nel valore primario, soprattutto in Italia, di questo sforzo, che è quello della sicurezza nazionale. Perché dobbiamo ricordarci che la normativa si chiama perimetro di sicurezza nazionale cibernetica. Non perimetro cyber, perimetro di sicurezza cibernetica, eccetera, eccetera, è sicurezza nazionale. E quindi le principali aziende importanti per la sicurezza nazionale hanno compreso che questo sforzo è uno sforzo fondamentale. C'è un tema, però, c'è un tema di, dalle nostre parti si dice, nel mondo dell'avvocatura, morire di compliance. Ecco, bisognerebbe cercare di evitare questo rischio, anche perché, ecco, queste sono aziende che erogano un servizio essenziale o una funzione essenziale per gli interessi dello Stato, importanti per la nostra sicurezza nazionale. Se ingestiamo troppo, blocchiamo troppo i processi di queste aziende, c'è il rischio che quell'erogazione possa, diciamo, subire dei rallentamenti o subire comunque dei danni tali per cui si può cominciare a immaginare che l'effetto poi sia anche visibile sui cittadini. Lo sforzo, appunto, che le aziende stanno facendo per evitare questo è enorme, ma dobbiamo tenere anche presente che, tanto per citare le prime che mi vengono in mente, nel terzo quarto del 2022, quindi di quest'anno, a livello europeo, entrerà in vigore il Cyber Resilience Act, il Cyber Security Act anche, quindi la prima certificazione dei prodotti e servizi, il regolamento d'ora per le banche, ecco, l'Unione Europea sta ponendo giustamente enorme attenzione sulla parte di compliance normativa, questo rischia di far lavorare molto bene gli avvocati che si occupano di cyber security, ma rischia poi di avere un effetto sulle aziende, lo dico contro i miei interessi, di avere un effetto negativo sulle aziende che inevitabilmente devono probabilmente guardare oggi più agli aspetti di compliance che all'erogazione del servizio essenziale stesso. Ora, è chiaro che il legislatore cerca di, perdonatemi il termine forte, forzare la mano su argomenti che oggi sono primari, cioè l'erogazione, il trasporto del gas, dato che abbiamo Andrea Chittero qui a fianco, l'approvvigionamento idrico, l'energia elettrica, le telecomunicazioni, il sistema bancario finanziario, è chiaro che il legislatore deve andare a cercare di forzare la mano per avere quei comportamenti che erano già presenti all'interno di queste aziende a questo livello, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, non partono sicuramente con il perimetro, con la direttiva NIS, le aziende come Snam, come Leonardo e come tantissime altre nel ragionamento di security. Però è chiaro che si chiedono degli sforzi compatibilmente con, passatemi il termine calcistico, il campionato che questi attori giocano, cioè un campionato di altissimo livello che impatta la sicurezza nazionale. Dobbiamo cercare però di armonizzare quello che l'Unione Europea ci chiede con quello che il governo italiano giustamente chiede per la propria sicurezza nazionale e cercare di semplificare il più possibile. La CN sta facendo questo sforzo, è chiaro che l'impianto normativo del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica è un impianto molto complesso e che è stato sfidante anzitutto per l'Agenzia per la Sapersicurezza Nazionale, che come sapete nasce in pochi mesi e in pochi mesi ha dovuto andare a sostituire l'attività di interi ministeri, il Ministero dello Sviluppo Economico è uscito in Gazzetta Ufficiale non più tardi di due giorni fa, l'atto ufficiale semplifico con cui vengono trasferiti i poteri dal Mise alla CN in relazione alle competenze che il Mise aveva sulla cyber security, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, eccetera. Quindi bisogna anche comprendere da quella parte, però nel momento in cui si chiede uno sforzo alle aziende così evidente è giusto che le aziende poi chiedano uno sforzo anche alla CN di venire incontro e di cercare, come so stanno facendo, di essere quanto più presenti possibile sul pezzo e chiudo, e sul pezzo in relazione a supportare anche con quelli che sono gli adempimenti che le aziende non devono fare, l'attività che questi operatori inclusi nel perimetro sono chiamati a svolgere e che svolgono con grandissima diligenza sempre nell'ottica della sicurezza nazionale. E continuiamo a parlare allora di questo campionato parallelo della compliance, chiediamo allora ad Andrea Salpietro di Leonardo quanto è oneroso in termini di risorse e di organizzazione per un gruppo come Leonardo specializzato in sicurezza, difesa, aerospazio, adeguarsi a questa normativa di cyber security? Sì, è chiaro che una realtà come quella di Leonardo era partita già molto prima della normativa sul perimetro, per ovvi motivi di gestione di dati riservati per la tipologia di business che Leonardo fa a servizio prioritariamente del paese, quindi delle forze armate. impatta, impatta tanto perché nell'ambito delle aziende inserite nel perimetro sicuramente Leonardo è una delle più presenti come censimento dei processi che sono stati inseriti nel normativa del perimetro e quindi comunque c'è stato un grande sforzo che adesso con l'ultimo decreto sul CVCN ha un ulteriore impatto perché chiaramente essendo tanti i processi censiti, essendo tanti gli asset che fanno parte del perimetro, la necessità di sostituire semplicemente banalmente un asset che non funziona più, mentre prima chiaramente veniva fatto nel giro di poche ore, oggi fino a che non si avrà un catalogo di prodotti sicuri e quindi già certificati, rischia di rallentare i processi. È chiaro che l'agenzia si rende conto di questa criticità e sicuramente a giorni quando cominceremo a mettere a terra questa nuova dinamica di procurement sugli asset censiti ci darà delle direttive idonee sicuramente a non rallentare quello che diceva prima l'avvocato, a non rallentare i processi. Però è sicuramente un qualcosa che impatta molto e se impatta su Leonardo, che comunque era già pronta o comunque era già strutturata sia in termini di compliance sia in termini di processi interni di controllo anche e soprattutto sulla cyber security, immagino quanto possa impattare su realtà meno strutturate. Consideriamo che noi abbiamo una duplice veste, noi abbiamo un grande perimetro cyber che tuteliamo come perimetro interno dell'azienda e che è fatto per dare un'idea da circa 100.000 asset, 49.000 dipendenti nel mondo che soprattutto con la pandemia hanno incrementato notevolmente il perimetro grazie allo smart working. Abbiamo la capacità di monitorare circa 100.000 eventi secondo con il nostro sistema di controllo, il nostro SOC e abbiamo un'altra anima che è quella commerciale del business, della divisione che vende i prodotti cyber al mercato. Questo ci dà chiaramente un vantaggio, un vantaggio che è quello di avere una base dati di analisi sugli attacchi cyber che ci rende praticamente molto più facilitati nel cercare di difenderci perché oggi un sistema può essere resiliente, può essere difficile da violare ma un sistema sicuro al 100% non esiste. Quello che dobbiamo fare e lo sforzo che una cyber security efficiente può fare oggi a tutti i livelli a secondo delle realtà che deve gestire è quella di rendere l'attacco più difficile, più complicato e più costoso. Per fare questo bisogna investire tanti soldi. Esatto, investire tanti soldi e in questo discorso non può mancare la strategia nazionale di cyber sicurezza 2022-2026 firmata da Draghi e presentata dal sottosegretario Gabrielli con delega alla cyber security e dal direttore generale Roberto Baldoni. Angelo Tofalo, lei è stato sottosegretario alla difesa nei governi Conte 1 e Conte 2, continua a seguire questo tema, qual è stato il contributo della difesa per quanto riguarda la cyber security? Ma devo dire che quello che si vince in maniera eccellente dalla strategia che è uscita da qualche settimana sono appunto i quattro pilastri, quindi abbiamo la CN neonata dopo un lungo percorso di almeno una decina d'anni che dovrà armonizzare un po' la regolamentazione di tutta la pubblica amministrazione e la vera sfida, l'ha sottolineato bene Stefano Mele, sarà coinvolgere non solo i campioni Leonardo, Snam e le grandi aziende, ma soprattutto il tessuto culturale delle piccole e medie imprese e gli altri tre pilastri sono appunto il Ministero dell'Interno, va raccontato da oltre 20 anni, una struttura del servizio di polizia postale e delle telecomunicazioni con il Kneipic, le strutture di contrasto alla pedopornografia riferimento anche internazionale ed è un lavoro che va avanti da ben prima che nascesse la nuova architettura nazionale per la sabersicurezza, le agenzie di intelligence che ovviamente si occupano di cyberintelligence e da anni cerco di stimolare la creazione di una sorta di NSA italiana, cioè un'agenzia che vada a proteggere le comunicazioni, le telecomunicazioni, le comunicazioni, il dato come si diceva prima importante solo per la sicurezza nazionale ma per i cittadini e veniamo alla difesa, la difesa ecco in questo percorso che va avanti da anni, faccio un piccolo esempio, noi dal 2004, ancora noi sento parte della grande famiglia, abbiamo il CEVA, prima avete parlato del CVCN, diciamo nato già un po' di tempo fa almeno sulla carta, il MISE ha fatto poco, oggi per fortuna ecco con la CN diamo la spinta decisiva, il Ministero della Difesa, per ovviamente legge, per normativa della Presidenza del Consiglio, la ANS, l'autorità nazionale per la sicurezza, ad esempio dal 2004 ha già il CEVA, il centro di valutazione, perché? Perché vent'anni fa circa ecco si credeva in un mondo totalmente diverso che fossero strategiche solo determinate strutture come giustamente lo sono sicuramente più di altre della difesa, per cui ecco la difesa aveva già il centro di valutazione proprio che andava a certificare tutti quei dispositivi che venivano introdotti nella rete strategica alla difesa a una dorsale propria, c'è un progetto, non dico nulla di riservato, che potrebbe addirittura in attacco cibernetico sostituire alla rete del sistema paese quello della difesa in appoggio, per cui su alcune cose sicuramente la difesa era ed è più avanti di altri, oggi ecco per fortuna con l'ACN, con l'Agenzia per la Sapersicurezza Nazionale, con questa strategia che poi dovremo a mio avviso verticalizzare, l'abbiamo già visto negli 82 punti, ma dovremo continuare a verticalizzarla in tutti i settori, penso all'automotive, oltre a quello dell'energia in tanti altri, quindi andare a fare delle norme ancora più specifiche e dettagliate. Una difesa negli ultimi anni, penso sia noto a tutti, abbiamo lavorato tantissimo per costituire il COR, il Comando per Operazioni Rete, non è stato un compito facile perché bisognava mettere d'accordo i quattro attori protagonisti, le quattro forze armate, quindi esercito marina, aeronautica, armi dei carabinieri, però ecco, data l'intelligenza, mi prometto di dire, delle risorse della difesa, siamo riusciti a creare un tavolo di condivisione ed è nato questo nuovo comando apicale a tre stelle ancora oggi, Comando per Operazioni Rete, che dovrà dettare un po' quelle che sono le linee guida al Ministero della Difesa. La vera difficoltà che ho riscontrato io personalmente era, come detto, la condivisione un po' dei dati, perché anche da un punto di vista normativo il vertice di Forza Armata, il capo di Stato Maggiore, era anche il responsabile civile e penale di quelli che sono i dati, per cui mi immagino, portandola più su, la difficoltà che avrà l'Agenzia e la CN ad andare a mettere tutti i ministeri, cosa che stiamo già facendo e sta già facendo da diversi anni, però ecco, la vera difficoltà sarà questa. Ci sono ministeri strategici come la Difesa, come l'Interno, come il Maeci, che sono un po' più avanti di altri, penso a ministeri come quello della Sanità, anche per le responsabilità regionali, ovviamente, penso a ministeri come il Ministero dell'Ambiente o altri ministeri, che ora stanno partendo un tipo di lavoro, stanno iniziando un tipo di lavoro che magari qualcuno ha iniziato qualche anno fa. Però oggi mi sento di dire, visto che ormai da dieci anni seguo da un punto di vista normativo in prima linea queste tematiche, che se prima qualche anno fa mi devo il bicchiere mezzo vuoto, oggi lo inizio a vedere mezzo pieno. E riprendo l'inizio dello speech di Andrea Crittaro, che giustamente diceva provare a fare sicurezza, e mettiamoci anche, non voglio spezzare una lancia a favore del legislatore, però provare a fare una normativa su un mondo che è proiettato alla velocità della luce, oggi si parla tanto anche di intelligenza artificiale, poi vediamo realmente dove sta magari nei laboratori, però sicuramente il tessuto è quello che deve cogliere la politica, il mondo delle istituzioni, oggi viaggiamo verso gli 8 miliardi di esseri umani, quest'anno, così come ci ha raccontato il Politecnico di Milano in alcuni studi resi pubblici qualche mese fa, supereremo i 40 miliardi di oggetti collegati alla rete, quindi di sensori, e qui entriamo in un altro mondo che è già presente, l'Internet of Things e l'Internet of Everything, e quindi la cyber security è assolutamente una cosa necessaria. E qui si vince anche la sua passione verso l'intelligenza artificiale. Allora, stiamo parlando solo di cyber attacchi che appunto le società italiane, infrastrutture critiche possono ricevere. Possiamo adesso iniziare a parlare della possibilità di rispondere ad un cyber attacco. Ecco, la difesa ha questa possibilità? Una regola di Tofalo. È stato annunciato, come dire, dal sottosegretario Moulet, proprio qualche settimana fa, prima anche negli equilibri tra pubbliche amministrazioni, sappiamo che l'intelligence ha le cosiddette garanzie funzionali per poter agire, ovviamente sempre in ambito di sicurezza nazionale, oggi la difesa ha mezzi e strumenti e anche il dispositivo normativo, a seconda di quelli che sono gli scenari. Ci sono accordi, non entro ovviamente nel dettaglio a dire cose che non si possono raccontare, però ci sono una serie di, come dire, scenari dove quello che è lo scenario di più alto livello, ovvero di conflitto cibernetico e non solo, ecco la difesa prende il timone anche sopra la stessa CN per intenderci. È, a mio avviso, un mondo che sta arrivando, non dico nulla di nuovo, abbiamo molti anni immaginato la cyber war, oggi purtroppo stiamo osservando lo scenario del conflitto russo-ucraino, io vedo ancora una vecchia guerra con le vecchie dottrine russe elaborate decine e decine e decine di anni fa, anzi direi qualche secolo fa, da Pietro il Grande a Igor, si punta sempre verso il mare, ci sono tantissimi attacchi cibernetici, anche le infrastrutture critiche, però ad oggi, correggetemi se sbaglio, non ho visto quell'attacco cibernetico che ha messo K o un'infrastruttura critica o ha causato morte in questo conflitto, quindi questo deve far ragionare sicuramente la direzione, la direzione è quella e a mio avviso, l'ha detto bene prima Andrea Salpietro, io nella mia esperienza istituzionale anche del Ministero della Difesa, lo riassumo così, noi fino a qualche anno fa distinguevamo i paesi che facevano parte del club del nucleare, quindi l'arma del nucleare, la proliferazione, una grande osservazione, c'era il club del nucleare, oggi io ho iniziato ad osservare, sono un po' gli stessi paesi, il club della cyber arma, della cyber intesa come sistema d'arma, servono tante risorse, oggi per fare un attacco di un certo tipo servono teste che sono rarissime, cioè si contano sulle dita forse di due mani a livello globale per riuscire a fare certe cose, intendiamo cose veramente serie, per cui costa tantissimo anche produrre la tecnologia, quindi una corsa tra l'attaccante e il difensore e ancora non abbiamo raggiunto forse quel livello economico tale per cui si può fare un attacco di un certo tipo, siamo ancora sull'attacco cinetico, questo però non toglie e chiudo che i carri armati, gli aerei, le navi, se non si dotano ovviamente perché sono sempre più connessi con piattaforme interoperabili, se non mettono al centro oggi la cyber sicurezza vengono messi off in pochi istanti. Avvocato Stefano Mele, continuiamo a dire quello che è raccontabile, allora si può rispondere ad un cyber attacco quando l'attaccante è ben identificato, lo può fare la difesa ma anche l'intelligence, in che modo ci può spiegare questa differenza? Allora, senza raccontare, esatto infatti ho notato, allora si può rispondere, sì, si può rispondere, il diritto internazionale permette una reazione legittima, quindi in linea con quello che il diritto internazionale prevede, nel momento in cui noi qualifichiamo l'attacco cibernetico, in questo momento lo qualifichiamo negli effetti, ad un attacco armato convenzionale, tradizionale. Quindi come sapete per esserci, se è presente un attacco armato ci vuole che l'effetto dell'attacco sia o la morte di qualcuno, purtroppo, o i danni fisicamente rilevabili alle infrastrutture. Questo comporta che un attacco armato cibernetico, per quanto non abbia una definizione nel diritto internazionale, però diciamo la mutuiamo da quella di attacco armato convenzionale, un attacco armato cibernetico è quell'attacco informatico che come effetto ha gli stessi effetti dell'attacco armato. Per fare un esempio, oggi se effettivamente fossero distrutte fisicamente le ventole di raffreddamento delle centrali di arricchimento dell'uranio in Iran, cosa che avvenne nel 2010, questo attacco oggi noi lo qualificheremmo inevitabilmente come un attacco armato. Quanto meno un uso della forza, ma molto probabilmente come attacco armato. Questo perché ovviamente il ragionamento giuridico è andato molto avanti tra il 2010, quando ci fu Staxnet, appunto quello che ho citato, e 12 anni dopo il ragionamento che noi oggi abbiamo. Quindi significa che, come diceva anche Angelo Tofalo, nel momento in cui c'è un attacco armato non c'è dubbio che entri la difesa, non c'è dubbio che entri un corpus normativo di diritto internazionale che qualifica determinate condotte in una specifica maniera, non c'è dubbio che lo Stato possa decidere, possa, non deve, possa decidere di reagire. Ovviamente in maniera proporzionata, è un discorso molto complesso e lungo su cui ovviamente non vorrei annoiarvi con tecnicismi, però sicuramente si può rispondere. Pensi che si può rispondere con un attacco cibernetico, anche un attacco convenzionale, quindi qualcuno mi bombarda, lo Stato decide di reagire con un attacco cyber e viceversa, io ho un attacco cyber e reagisco convenzionalmente. Si può fare per il diritto internazionale, è chiaro che la linea è molto sottile. Questo per i militari, certamente, atto di guerra per intenderci, quindi uso della forza o attacco armato, si decide se reagire, reagiscono i militari, molto facile direi. L'altro facile è servizi intelligence, servizi segreti cosiddetti. Servizi segreti fanno quelle che vengono chiamate computer network exploitation, quindi azioni di spionaggio nel cyberspazio. Tant'è vero che, è chiaro ed era ovvio che fosse così, la CN non ha tolto, come ho detto prima, ai servizi segreti la capacità di fare spionaggio, perché quella la fanno soltanto i servizi segreti. Ha tolto quella parte di cyber resilience, come dice il professor Baldoni, di interazione con le società private e con la pubblica amministrazione che era un po' fuori dal contesto dell'intelligence e che fu assegnata all'intelligence nel 2013 sotto il governo del Presidente del Consiglio Monti per tutta una serie di ragioni legate all'urgenza che c'era in quel periodo. Quindi altro elemento facile, nel cyberspazio l'intelligence agisce per fare spionaggio come giusto che sia. C'è un tema però, che è il tema che vede probabilmente il 98, 95, 98% degli attacchi che subiamo normalmente, che sono sotto la soglia dell'attacco armato e che è la quotidianità su internet e che però sono azioni tra virgolette offensive. Qui bisogna cercare di capire chi deve agire per gli interessi dell'Italia. È chiaro che agisce l'intelligence per gli interessi dell'Italia andando a raccogliere informazioni in tempo di pace per supportare determinate scelte governative. Non è altrettanto chiaro chi potrebbe decidere di reagire a questo genere di attacchi. Infatti la mia proposta di modifica legislativa fatta proprio da questo palco e con lei come moderatore un po' di mesi fa era quella di prendere l'occasione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica che dà i poteri al Presidente del Consiglio dei Ministri di disattivare, semplifico, infrastrutture tecnologiche incluse nel perimetro che stiano subendo un attacco cibernetico e dare anche un altro potere al Presidente del Consiglio che è quello di decidere eventualmente di reagire ma farlo con la cosiddetta educazione istituzionale che questo comporta. Cioè avvertendo il CIC, il Comitato interministeriale per la ciber sicurezza che è stato creato, sentendo magari anche il COPASI che sempre più è sicurezza della Repubblica e non solo Comitato che controlla l'intelligence. Ecco quindi mettendo insieme tutta quella sanissima infrastruttura democratica che noi abbiamo per questo genere di azioni che garantisce che la risposta sia del governo italiano. E quindi la mia idea era quella appunto di aggiungere questo comma all'interno dell'articolo 5 del perimetro proprio per far decidere al Presidente del Consiglio, non obbligatoriamente e soprattutto guardi per sganciare un problema fondamentale che è quello dell'attribuzione di chi ci sta attaccando. Se tecnicamente noi non sapremo probabilmente quasi mai o comunque l'intelligence con le sue informazioni ci dice che volendo possiamo reagire nei confronti di quel determinato attore? Se oggi sono così importanti questi sistemi informatici che erogano il gas, l'energia elettrica, le telecomunicazioni, le banche, spero quanto prima la sanità, ebbene dobbiamo sganciarci dal tema chissà chi mi sta attaccando. Se quel servizio viene interrotto e gli effetti dell'attacco informatico sono sui cittadini italiani, a noi non deve più interessare chi sta attaccando, se organizzazioni criminali, un'altra agenzia di intelligence, le forze armate di uno Stato, attori non governativi, noi dobbiamo dare al Presidente del Consiglio almeno la scelta di poter reagire per cercare di tutelare la sicurezza nazionale. Poi chi lo farà, l'intelligence o le forze armate, uno delle due, dobbiamo guardarlo sul piano normativo e sul piano della cornice politica e dell'opportunità soprattutto. Ovviamente l'intelligence ha le garanzie funzionali, i militari non hanno le garanzie funzionali, quindi è chiaro che nel caso dovesse essere, almeno a mio avviso, i militari dovremmo dare delle garanzie funzionali per quella specifica attività anche ai militari. Secondo me quello che il Sottosegretario Mulè ha fatto è alzare un ragionamento che oggi è importantissimo creare un dibattito su questo, che è la stessa ragione per cui ho fatto questa proposta di modifica normativa e soprattutto cercare di arrivare a una soluzione che può anche essere che non facciamo niente ma almeno che abbia un ragionamento dietro di sicurezza nazionale, di opportunità politica e di difesa delle nostre infrastrutture critiche nazionali. Grazie Avvocato Stefano Mele. Continuiamo con Andrea Salpietro a raccontare, ad analizzare questa guerra ibrida che è enfatizzata dalla Russia con la sua invasione in Ucraina. Leonardo ha registrato degli aumenti cyber, delle minacce cyber? Sì, abbiamo registrato un incremento degli attacchi, dei tentativi di attacchi da sostanzialmente subito dopo l'inizio dell'invasione. In realtà anche qui ce l'aspettavamo e comunque la comunità, diciamo così, degli addetti ai lavori cyber che si aspettavano, eravamo diciamo pronti ad affrontare un qualcosa di nuovo. In realtà il dato che vorrei dare è che l'aumento c'è stato e è stato anche importante a livello generalizzato nel senso che abbiamo registrato un incremento del 200% dei tentativi di attacco che normalmente registriamo durante, diciamo, quotidianamente. Il dato, diciamo, più importante secondo me è quello che l'incremento numerico è stato meno importante dell'aumento qualitativo dell'attacco. Cioè, per fare un esempio semplice, la campagna di phishing di cui siamo vittime tutti, tutti i giorni probabilmente, attraverso messaggi, email, se prima erano campagne di phishing generalizzate, adesso abbiamo notato invece una profilazione del target che fa emergere un'analisi ed un investimento anche in termini economici e di risorse umane per profilare il target e riuscire ad ottenere, avere un'alta possibilità di ottenere il breach, cioè di ottenere l'esfiltrazione di dati o, come nel caso degli ultimi attacchi che ha registrato la pubblica amministrazione, la sanità, di inoculare malware del tipo di OS e quindi, diciamo, di una tipologia di attacco che non è tanto pervasivo nella misura in cui estrae i dati, ma è finalizzato a bloccare i siti e quindi a bloccare i servizi. In questo, il discorso che facevamo prima anche con l'avvocato, è particolarmente complesso capire chi ci attacca. Cioè, noi affrontiamo, ripeto, centinaia, migliaia di tentativi di attacco al giorno. Riuscire a determinare chi ci sta attaccando, a meno che non ci sia una rivendicazione, come spesso accade con la guerra in Ucraina, abbiamo visto due grandi organizzazioni di cybercrime che si sono contrapposte, Kilnet pro-russo e Anonymous pro-Ucraina. In quel caso ci sono le rivendicazioni e quindi è chiaro la matrice dell'attacco, ma nella stragrande maggioranza dei casi, riuscire a identificare l'attaccante è la cosa più difficile e questo crea poi problemi nella misura in cui si può ipotizzare un contraattacco, perché il contraattacco è legittimato se è identificato l'attaccante, altrimenti la vedo difficile legittimarla su un piano normativo. Prima cosa. Seconda cosa, un attacco armato è qualcosa di complesso, è molto difficile da determinare nel momento in cui ci si trova nella quotidianità a capire cosa sta accadendo su un perimetro di una pubblica amministrazione o di un'azienda come Leonardo, per esempio, o altre infrastrutture critiche. La realtà è che l'attacco passa attraverso il quotidiano tentativo di breach che vanno a minare la funzionalità dei servizi e questo viene attraverso un qualcosa che è molto meno di una dinamica che si può definire attacco armato, ma è una realtà, è una realtà che blocca e che può minare la funzionalità di un paese. Quindi da un punto di vista normativo questo credo che sia l'aspetto più complicato. Quello che affrontiamo tutti i giorni è sicuramente, soprattutto dopo la scoppio della guerra, un incremento sinumerico ma soprattutto un incremento qualitativo. Evidentemente dietro a questi tentativi di attacco ci sono entità statuali o vicine a entità statuali che investono e hanno capacità di profilazione dei target molto importante. E sì, i cyberattacchi si evolvono sempre di più. Chiudiamo questo panel con una domanda, una sorta di quiz di 5 minuti per l'onorevole Tofalo. Finalmente la cyber security è in cima all'agenda del governo, c'è stata una nuova governance di tutta la normativa cyber fino all'istituzione dell'agenzia cyber. Ma come siamo arrivati a questo in dieci anni dal famoso decreto Monti? Ecco, io arrivai qui nove anni e qualcosa fa, questo è il decimo anno, febbraio-marzo 2013, a gennaio ci fu il decreto Monti che era, come dire, semplicemente fare i compiti per casa assegnati dall'Europa, che chiedeva ai paesi appartenenti all'UE di dotarsi di una architettura e di affidare una responsabilità. Allora la responsabilità fu data alla Presidenza del Consiglio, ovviamente, e all'ufficio del Consigliere militare del Presidente del Consiglio. Quindi immaginate un generale, un ammiraglio a tre stelle che aveva qualche ufficiale o sotto ufficiale a dargli una mano e doveva garantire la sicurezza cibernetica del sistema paese. Arriviamo velocissimamente al 2017 con il decreto Gentiloni, in quell'occasione si decise, devo dire, io ero l'opposizione, quindi lo dico in massima chiarezza, ci fu un lavoro corale con il COPAS, che all'epoca ero componente, quindi governo e una commissione la cui presidenza era dell'opposizione, e ecco si decise insieme di affidare la responsabilità della saper sicurezza al comparto intelligence. quindi il DIS, dove poi fu nominato come vice direttore appunto Roberto Baldoni, oggi dirige la CN, con una delega specifica, quindi vice direttore generale, con una delega specifica che fu ritagliata per la prima volta ad un accademico per la saper sicurezza, e il DIS si sovraccaricò, ecco, di una funzione di armonizzare la normativa per tutta la pubblica amministrazione, quindi oltre la cyber intelligence, anche la cyber license. nel frattempo 2016, recepita nel 2018, ricordiamo la NIS, Network Information System, che chiedeva sempre ai paesi appartenenti all'UE di far sì che i fornitori di servizi essenziali si dotassero di requisiti minimi di sicurezza. arriviamo dopo, nel frattempo si discuteva, lo dico perché era in sede, come dire, riservata, ma si discuteva della fondazione, quella che oggi diciamo è la CN, già dal 2015 era il governo Renzi, e da allora abbiamo messo, diciamo, sei anni per poi vedere finalmente la nascita della CN, quindi un qualcosa che sempre sotto la presidenza del Consiglio fosse unicatamente dedicata a normalizzare, ad armonizzare tutta la normativa del sistema paese Italia, ma soprattutto sui tavoli internazionali, perché chiudo con questa riflessione, ancora oggi e credo ancora più domani, quando speriamo quanto prima finirà questo conflitto e vedrà sicuramente la Russia fortemente indebolita, con un PIL che ci vorrà un bel po' di anni per recuperare quelle che sono le risorse interne, ci sarà il big match tra Stati Uniti e Cina e che già vediamo da diversi anni proprio nel dominio cibernetico e vediamo una forte polarizzazione tra un blocco occidentale e un blocco orientale che ha un po' schiacciato l'Europa, ovviamente i singoli paesi, l'Italia, per cui ecco, noi stiamo spingendo tantissimo e la CN, che adesso è anche l'interlocutore unico sui tavoli internazionali, dovrà lavorare con gli altri paesi per andare a normalizzare anche le norme tra i paesi dell'UE in maniera efficace e quindi far nascere dei modelli, sembra sempre che stiamo, come dire, al punto di inizio, nel senso che sì, è nata la CN, ora noi qui spingiamo affinché tutti i ministeri facciano qualcosa e si dotino di strumenti interni per garantire poi al paese, perché sono informazioni sensibili di sicurezza e di difesa nazionale e deve crescere, torno sempre lì, la diffusione, cosa che stiamo facendo oggi e vi ringrazio questo per l'invito e per l'evento, la diffusione della cultura della sicurezza cibernetica. Torno sempre a un problema, alla vicenda occhio nero che ricorderete, io sono stato, come dire, numero due della difesa per tre anni, il mio telefonino è sempre questo da vent'anni, il numero del Presidente Draghi è un cittadino, Mario Draghi, è il Presidente del Consiglio, tratta informazioni riguardanti la sicurezza nazionale bisogna capire anche l'entità della singola persona, anche il singolo dipendente, qua penso che due persone sono quasi scontrano ogni giorno, ma anche nello studio, ogni singolo cittadino è parte del sistema paese, io non mi stancherò mai di dirlo, dai ragazzi che lavorano nelle piccole aziende e sono collegati, non è che quando spegniamo il computer e torniamo a casa è finita la partita, si parlava prima delle mail di phishing, purtroppo, sono dati riservati, ma ancora oggi amici me li fanno leggere, ancora oggi se arriva l'email di phishing a ing.angelotofalo.gmail.com c'è un livello di attenzione pari a 10 perché è la mia mail privata, non è il caso mio, però non mi permetto di dire di altri, se arriva l'email di phishing sulla mia mail istituzionale o aziendale c'è un livello di attenzione molto più basso, perché non capiamo che il sistema paese è uno e trino, il singolo cittadino, inteso come singolo, inteso nell'azienda, inteso ancora di più nelle istituzioni, dal Presidente del Consiglio, dal sottosegretario, dal singolo parlamentare, io oggi non dico nulla di nuovo, mi trovo ancora certe volte a scollegare nella sala della Camera dei Deputati colleghi che lasciano l'email, l'accesso, il profilo Facebook, sembrano banalità, ma non lo sono, allora o capiamo culturalmente che siamo tutti parte, la bandiera è unica, siamo tutti parte di un sistema paese, al di là del ruolo che ricopriamo o non ce la caveremo. Lei ha solo dato la sua mail senza la password in questa situazione. Abbiamo parlato dell'ACN nata decenni dopo rispetto alla Francia e alla Germania ed è operativo all'interno dell'ACN il Comitato Tecnico Scientifico. Tra gli illustri membri c'è Andrea Chittaro. C'è già stata la prima riunione e qual è la missione del Comitato Tecnico Scientifico presso l'ACN? No, ma gli illustri membri sono gli altri. Io sono solo un modesto rappresentante di una categoria che è quella dei Security Manager, dei CSO, dei CISO, che fanno parte della community di AIPSA, dell'Associazione Italiana Professionista della Segurità Aziendale, che grazie a chi ha aiutato a scrivere questa norma sul Comitato Tecnico Scientifico ha un posto all'interno dello stesso. Beh no, in realtà la prima riunione sarà domani. Quindi se questa domanda fosse stata posta dopo domani poteva avere una risposta un po' più concreta. Ma io credo che al di là di quello che è il dettato della norma, sul ruolo del Comitato Tecnico Scientifico, torno a quello che ha detto Angelo Toffalo adesso, credo che il primo scopo e compito di un Comitato, oltre a supportare, a stimolare l'Agenzia, sia proprio quello di creare basi culturali, sia quello di creare basi di comunicazione più strutturate tra il pubblico e il privato. Purtroppo io questo lo sto dicendo da molti anni, si fa tanta fatica, si va avanti piano, però ecco, rispetto a un tempo, oggi potenzialmente ci sono gli strumenti e le previsioni per far sì che quello che il sottosegretario Gabrielli ha ricordato non più tardi, una settimana fa, cioè che il privato sia un attore indefettibile, un attore fondamentale e ascoltato soprattutto da parte delle istituzioni in questa grande sfida che abbiamo tutti davanti come Paese, ecco, credo che nel Comitato Tecnico Scientifico, almeno per quanto mi riguarda e per il ruolo che io potrò svolgere proprio come rappresentante di una comunità di professionisti della sicurezza, cioè quelli che stanno in prima linea tutti i giorni, ecco, portare le loro istanze, portare la loro voce, portare una modalità di confronto trasparente, come peraltro è stato fino adesso, credo che sarà uno degli scopi principali. Poi vedremo cosa accade dopo la prima riunione e dopo che questo Comitato avrà preso vita. Allora ci sentiamo domani, grazie davvero agli illustri speaker, relatori, grazie a voi per averci seguito e do la parola a Raffaele Barberi, direttore di Key for Biz, e a Roberto Antonini dell'Agenzia Dire per il prossimo panel.